in questi giorni si stanno muovendo parecchie critiche verso il mercato della juventus che bisogna dirlo ad oggi è inevitabilmente insufficiente per canali eventos che ha perso dei persi importanti e pregiati mi viene in mente angel di maria veramente lo stesso paredes ci pensiamo giocatore di un certo livello c'è una situazione in casa juve abbastanza complicata e soprattutto è arrivato attualmente soltanto wea dall'altro punto di vista però c'è qualcuno che dice occhio perché perché noi sottovalutiamo il mercato della juventus ma ad oggi sono rientrati molti prestiti sono giovani possono essere molto interessanti ma soprattutto juventus può aver preso un giocatore di grandissima qualità che è stato un po snobbato che ora evidentemente ci può dare qualcosa in più scopriamo il dettaglio tutto oggi su fcmi newsport io come sempre vi ricordo e qui sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende juve quindi se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e allora inizialmente la juventus quando ha preso wea figlio di dell'incredibile leggenda george wea molti hanno detto vabbè è lo scarto di nessuno l'ha mai voluto a quest'età doveva già essere un top club se era un grande giocatore lo prendi a 11 milioni vuol dire che evidentemente non è granché ha fatto zero gol lo scorso anno cosa vuoi che sia è un giocatore assolutamente inutile e fin da subito vi ho detto occhio calma perché è chiaro che in questo momento la juventus non può comprare i grandi fenomeni non vi aspettate gli acquisti di kirian bappé o di holland per intenderci per cui è inutile fare voli pintarici sul mercato ma allo stesso tempo è inutile già bollare dei giocatori come bidoni come giocatori inutili come giocatori ininfluenti giocatori invece che potrebbero invece dare qualcosa di interessante in futuro e fin da subito vi ho detto occhio con wea perché non è un fenomeno e ve l'ho detto fin dal primo giorno non è assolutamente un fenomeno è un giocatore che diciamo su cui c'era stata una grande concorrenza ma è un giocatore utile fin da subito vi ho detto è un giocatore utile per questa juventus che magari non ha il nome di paredes non ha il nome di altri giocatori che in passato sono arrivati con grande blasone ma sicuramente delle caratteristiche che servivano davvero tanto alla juventus perché da tempo che vi dico occhio perché questo ragazzo ha delle caratteristiche che mancano da un po' ossia tanta corsa in una juventus che gioca difesa e contropiede un giocatore come wea serve perché corre davvero tanto nel 352 può essere un elemento fondamentale perché in passato abbiamo invidiato a volte nel 352 dell'intero dell'atalanta gli esterni di inter atalanta ecco che all'eventus serviva un giocatore del genere ed infatti soprattutto oltre alla corsa oltre allo sprint anche la capacità di saltare l'uomo cosa che in questa juventus è da tempo che dico manca terribilmente io credo che la juventus abbia cominciato un declino al di là dell'aspetto puramente societario e quant'altro anche quando ha cominciato a vendere a cuor leggero tanti giocatori che saltavano l'uomo con facilità e negli anni l'eventus aveva avuto un anno con cansello quadrado da glascosta di bala lo stesso spinazzola e giocatori che saltavano l'uomo con facilità e che potevano creare superiorità numerica negli anni l'eventus li ha venduti tutti questi giocatori prima è andato via da glascosta spinazzola poi cansello poi da glascosta poi di bala ora c'era di maria quest'anno ecco sono rimasti veramente pochi è andato via anche quadrado tanti giocatori che l'eventus ha venduto ecco quando l'eventus invece prende un altro giocatore del genere cioè uno che salta l'uomo io credo che sia un punto a favore della juve e non un punto a favore chiaro che in questo momento la tendenza del tifoso juventino è quella di criticare a prescindere e posso anche essere d'accordo da un certo punto di vista però va criticato quello che c'è da criticare ma non tutto ecco wea è un colpo che ha 11 milioni di euro perché ricordiamoci l'investimento fatto l'eventus per guai di 11 milioni di euro a inizio mercato per prelevare l'esterno americano da lille una cifra a cui andranno eventualmente aggiunti 2 milioni di euro per i bonus e stiamo parlando di un giocatore che però a questa cifra secondo me è un affare un po perché nell'ultimo anno non ha brillato un po perché fondamentalmente non era la scadenza ed è l'unico volto nuovo di questa juventus che abbiamo visto in questi giorni però ha avuto subito un impatto molto importante corre corre tantissimo a sprint tutti i compagni tra l'altro sono rimasti abbastanza sorpresi dalla sua tenuta soprattutto fisica e abbiamo visto la differenza di sprint tra lui ad esempio sulle quando è stato messo in fascia sulla destra era tutto un'altra roba è arrivato anche il gol abbiamo visto un ottimo inizio contro il milan sono rimasti tutti sorpresi io non sono rimasto sorpreso perché l'ho visto giocare tante volte ed è quel tipo di giocatore lì è uno che ti dà sprint che ti dà corsa che ogni tanto salta l'uomo che però ha delle carenze da un punto di vista difensivo e ci arriviamo ma a livello offensivo è uno che spinge tanto probabilmente poi manca un po di lucidità lì davanti non sempre il cross è perfetto non sempre il passaggio è preciso non sempre il tiro è importa però un giocatore che serviva questa juventus perché il momento serviva davvero tanto l'uomo che possa avere la capacità del dribbling tempo fa il cittista nuttunitense appunto della nazionale americana aveva detto uea e il compagno di squadra ideale per tutti perché porta ogni giorno vibrazioni positive nello spogliatoio con i suoi sorrisi con la sua musica ma anche con la sua qualità perché è un giocatore che per caratteristiche salta l'uomo ma mette subito il pallone in mezzo salta l'uomo e cerca subito il compagno non è un solista è un giocatore che molto spesso tende ad accompagnare la manovra e soprattutto aiutare i compagni è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che non è un goliador perché ha fatto 18 reti in carriera 8 gol con la maglia del Lille 4 con la maglia del Celtic e 2 con quella del PSG un totale a cui vanno sommati i quattro gol fatti con la nazionale americana 32 partite consecutive disputate nella stagione tra Ligue 1 e Coupe de France dopo l'infortunio al piede che l'aveteva costretto a saltare la prima parte di stagione e quindi molti mi hanno chiesto ma Givento si ha preso un bidone o un fenomeno la verità molto spesso sta a metà perché questo 23enne americano io credo che sia un buon giocatore non è un fenomeno ma non è neanche un flop come molti l'hanno dipinto negli ultimi giorni o meglio non negli ultimi giorni perché negli ultimi giorni si fa facile a dire ma alla fine io avevo detto che era forte no non è un fenomeno ma non è neanche un flop perché a inizio nel mercato quando c'era il morale giù perché tutti volevano l'addio di Allegri perché chiaramente l'entusiasmo non è alle stelle magari l'inter ti prende fra te se tu prendi wea c'è un po di il milan comincia a fare una serie di infiniti colpi di mercato mentre il momento si prende solo wea è chiaro che si tende a demoralizzarsi un po però l'acquisto di wea è un acquisto non di un fenomeno e neanche di un flop ma esso soprattutto l'acquisto di un giocatore utile che darà secondo me molte soddisfazioni ai tifosi della juventus a Grazie a tutti.